io 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 no io sono la subretta io sono la subretta allora vogliamo prima partire scusate eravamo partiti senza accorgercene benvenuti a tutti siamo con lo zio piero una nuova rubrica sta per partire da oggi i consigli di zio piero allora scusate prima di voglio dire cosa voglio dire voglio dare voglio dire diciamo come dopo c'è dopo pranzo le parole in italiano non si capiscono il suo verbo quello che viene la bella della diretta è quella la bella allora io voglio dare un consiglio se tutti gli uomini tutti gli uomini a tutti gli uomini che sono qui gli uomini eccoli sposati e non sposati e fidanzati eccoli la eccoli qua e quindi dicevamo quando le moglie o le fidanzate vi dicono che cosa che io voglio queste tu dici di no la perdi dalle mani bravo invece devi dire sempre che tu la prendi in giro perché la donna va presa in giro per ottenere qualcosa signora maria conferma o si dissocia si dissocia si che significa la signora si dissocia perché perché non ha parlato bene non ha parlato bene la signora di cultura stai zitto la signora di cultura prego il discorso è contrario eh quindi cosa dice cosa dice lei non le viene non le viene non le viene non le viene ho sentito cosa ha detto ho detto cos'è che ti socia dal suo discorso dal suo discorso cosa di storia no commenti no commenti no commenti no commenti ha detto no commenti come perché so noi noi vogliamo fare voglio dirvi fate una riflessione su queste parole i consigli di gioppiero sono che i consigli che vi do sono veri giacomo stai a sentire perché li ho passati io giacomo giacomo stai a sentire stai a sentire i consigli di gioppiero premsi sordi poveri buonanzino è sorbetto è sorbetto è ti stai sorbendo tutto e ti assorbe anche questa notizia è la notizia è quella giusta di allora pieno consiglia il consiglio il consiglio che vi do non dite mai no alle donne sempre sì sempre un applauso un applauso un applauso un applauso dagli uomini poi con il prossimo è un signore vuole dire qualcosa ma chiudi la parella signore e signori passi e chiudo passi e chiudo radio show io 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 signora grazie arrivederci passi e chiudi